Nell'articolo di questo mese della rubrica presupposti del mensile di Dr. Ross non ci occuperemo per una volta delle novità fiscali introdotte dal legislatore che come sapete sono state notevoli in termini numerici nell'ultimo periodo. Tratteremo invece un tema di stampo più economico gestionale, di notevole però interesse per tantissimi studi. Come sapete la gestione delle variabili extracliniche risulta sempre più importante per il successo del proprio studio negli ultimi anni e l'articolo si inserisce proprio in questo filone. Complice anche la crisi o quantomeno la fase di cambiamento che il mondo del dentale sta attraversando ormai da diversi anni è un trend ormai frequente quello di creare delle aggregazioni di professionisti di odontoiati o di dentisti all'interno degli studi. Se questa tendenza sicuramente può essere positiva perché può ampliare la gamma di servizi offerti al paziente e quindi la soddisfazione da parte del paziente può avere però dei problemi di natura economica cioè può generare dei rischi. E' infatti prassi comune nel settore quella di pagare i propri collaboratori inseriti all'interno della struttura o i colleghi che appunto eseguono prestazioni sui propri pazienti all'interno però dello studio del professionista pagarli con una percentuale che solitamente si aggira intorno al 30 o al 40% ma può essere ovviamente differente sull'incasso lordo cioè su quanto effettivamente il paziente corrisponde paga per le proprie prestazioni e non sull'effettivo margine di utile che la singola prestazione comporta allo studio. Questa prassi ahimè può generare delle situazioni di perdita effettiva da parte dell'odontoiatra che fa eseguire delle prestazioni a dei colleghi sui propri pazienti. Quindi si può lavorare di più cioè può aumentare il numero delle prestazioni erogate ai propri pazienti ma riducendo in alcuni casi l'utile effettivo. Come evitare quindi questi errori lo si fa conoscendo sicuramente alcuni concetti economici di base che vengono spiegati nell'articolo e appunto prendendo dei provvedimenti che troverete leggendo questo articolo in cui sono anche forniti alcuni esempi numerici che chiariscono meglio quanto qui brevemente detto. Buona lettura quindi tutti e arrivederci!